Quarta edizione del torneo, abbiamo ancora una volta Spaghetto presente qui al Meeting Point, numero uno. Spaghetto stavolta si mangia il piatto. Si mangia il piatto, questo è il Meeting Point torneo di 8 e 15. Abbiamo Luigi, Checco, Alessandro, uno dei vincitori del torneo. Molti spettatori in studio, Roberto, Gianni, Gino e Danilo, al tavolo numero 7. Abbiamo Roberto e Cigi Riva, attenzione, personaggio storico Cigi Riva, l'onipresente. Faccio un saluto agli amici del Meeting Point. Ciao Meeting Point. Un saluto di Gigi. Continuiamo il torneo, andiamo avanti, abbiamo lo scorso vincitore del torneo, la terza edizione, Danilo Ialungo, from Bagnoli. Attenzione, derby casalingo per loro, Fabrizio contro Roberto. Attenzione, derby casalingo per loro, Fabrizio contro Roberto. Blackout al Meeting Point, il bello della diretta. Abbiamo Leonardo, Gianni, Luigi, Spaghetto. Non toccate le palle, attenzione, si potrebbe imbrogliare, c'è chi sta mettendo l'otto davanti la buca. L'amico mio è una festa che fa così, attraverso la ragazza e faccia una pubba. Eccolo, è arrivato. Torna la luce, si rigioca. Un applauso per il blackout. Applauso. Tutto molto sfogato al Meeting Point. Continuiamo. Checco versus Massolo. Niccolò versus Roberto. Spaghetto is out. Spag kwent. Spagno. Picco contro Niccolò. Le due rivelazioni del torneo. prima tesissimo che pubblico che pubblico che stiamo fuori e che pubblico che stiamo fuori che pubblico che stiamo fuori e che pubblico che stiamo fuori c'è la prova televisiva se volete c'è la prova televisiva c'è la tecnologia c'è la tecnologia posso mandare video posso mandarevo lei che pubblico che stiamo fuori che pubblico che stiamo fuori che pubblico che stiamo fuori 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 Niccolò alla 1 partita para fino all'ultimo complimenti ai due campioni Niccolò arrivederci alla prossima puntata del Meeting Point che stiamo fuori